In giornata la sentenza del processo ad Adriano Celentano accusato di aver violato la legge elettorale per aver invitato il suo pubblico nel corso di una puntata di Fantastico a scrivere sulle schede del referendum no alla caccia. Lievi le pene chieste ieri dal pubblico ministero, 15 giorni di carcere e 100.000 lire di multa. Ma vediamo qual è il clima al Palazzo di Giustizia di Roma dove un gruppo di fan sta attendendo insieme ad Adriano Celentano la sentenza. Linea a Claudio Pistola. In attesa della sentenza i gruppi ecologisti anticaccia eccetera che hanno scortato Adriano Celentano nel corso del processo hanno oggi mobilitato perfino un aereo. L'arrivo del molleggiato è solo di qualche minuto fa. Allora? Cosa? Come ti senti oggi? Come ieri. Bene o male? Bene. Tutto a posto? Un Celentano oggi visibilmente più disteso rispetto al Celentano della prima udienza.